Ciao, mi chiamo Gabriele e vi lascio questo messaggio per parlarvi del mio percorso formativo all'Ipsia di Cuneo, dove nel 2020 ho conseguito il diploma come tecnico addetto alla Mutenzione degli Impianti Industriali, il quale mi ha permesso anche di partecipare a un corso post-diploma, nel mio caso un corso come progettista meccatronico. Un grosso ringraziamento doveva mia ex professorella e le mie ex professoresse, che grazie alla loro preparazione mi hanno permesso di riempilare le mie conoscenze sia tecniche sia teoriche.